Siamo qua per narrarvi la partita tra Pianese e Campobasso, valida per la pollo scudetto della stagione 2022-2024 della Serie D. Claudio, una partita dal valore simbolico, più che simbolico, è una partita di prestigio tra queste due squadre, due squadre che hanno vinto rispettivamente proprio i gironi, penso ci tengono a figurare bene, no? Speriamo, speriamo per il pubblico che ci tengono a giocare bene, perché sai, il campionato è finito, queste due squadre hanno dato tanto, non so a che punto sono ora, anche con la preparazione, molto probabilmente hanno un po' rallentato, però vediamo, speriamo sia un bello spettacolo. Ho l'occhio alla palla per Lombari, Lombari va a puntare l'uomo, Lombari gran giocata e poi ti riporta, palo interno, che giocata l'ha fatto qua, poi tiro, altro tiro. Palla in mezzo di Tognetti, tocco di testa, palla che finisce poco al lato, stilo anche da Gianese, a parte che si sta accendendo. Per il tasso, intanto Bramante a lunghissima distanza, ha colpito bene. Allora attenzione, perché c'è una buona occasione per il Campopasso, con Lombari entra in aria, tira in porta, grande risposta di Iurino questa, si è fatto trovare prontissimo il portiere della Pianese. Belli scambio, Coco è nell'aria, dos per Falcone anticipato. Questa è una grande potenziale occasione per la Pianese. Pontillo per un pelo l'ha anticipato. Ancora il numero 18, può tentare il traversone, lo fa bene, fa la sponda, tira in porta, la parata di Iurino, che qua ha fatto un grande intervento, un tiro in porta di Rasi. Rasi, grande intervento. Per il Campopasso, Iurino si è fatto l'aria prontissimo, battuto il corner, falla in mezzo ancora a Iurino, sul colpo di testa di Gonzales, nel giro di pochi secondi, due volte Iurino, prima sul Rasi, poi sul Gonzales. Pallone in mezzo, sul secondo pallo, colpo di testa, poi sulla linea Coco, ma ancora Grani, può attaccare colpito il direttore di gara. Poi Lombari, tiro in porta, era una sassata, altra gran giocata di Lombari, da quest'altra parte Lombari, invece fa tutto Di Nardo, con il destro in porta, rete del Campopasso, assegnato Rasi, su servizio di Lombari, non so se era un tiro in porta o un passaggio, fatto sta che è diventato un assist al bacio per l'inserimento di Rasi. Qualche d'uno è rimasto un po' fermo in difesa. In vantaggio il Campopasso, su questa ripartenza. Di Nardo, Di Nardo, gli è andato addosso Gagliardi, Di Nardo ha crossato subito, però qualche d'uno è rimasto un po' fermo della difesa della Pianese. Aspetta un po' troppo, chiuso. Le donne, le donne, le donne. Destro di rapporto, mamma mia! Abbiamo provato una giocata meravigliosa. Le donne. Fisca il direttore di gara. Partita che finisce qua, 1-0 Campopasso. Claudio, a te il commento finale? È stata una discreta partita, diciamo, di fine campionato. Il Campopasso ha dimostrato di essere una squadra forte in tutti i reparti. La Pianese è uguale, soltanto che la Pianese, come si è detto prima, non si può giudicare oggi perché non è per fare torta a nessuno, però non è stata la formazione titolare che ci ha fatto vivere, sognare per tutto il campionato. Comunque, onore a chi ha giocato. Bella partita. Sì, anche l'Ello Caratteriale sembra una Pianese un po' più... Più rimissiva. Più rimissiva. Però, comunque, una bella partita, una bella fornice anche di pubblico. E quindi, un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno seguito da parte di Leonardo Tondi. E Claudio Minarelli. E alla prossima. Aveva detto che mischiava la formazione per consentire a tutti, insomma, di avere un po' di soddisfazione. È stato di parola mischiato la formazione? Sì, ma non è che ho dato spazio a giocatori bravi, a giocatori veri che per tanti motivi hanno giocato un po' meno, ma hanno fatto una buonissima partita. Hanno onorato la competizione, la manifestazione, hanno fatto una buonissima partita. È normale che la tenuta fisica era diversa, la tenuta mentale è diversa, perché ora, in questo momento, non lo dico senza nessun problema, è difficile mantenere l'attenzione e la concentrazione come prima. Perché durante la settimana è difficile, perché l'obiettivo... A noi non è che non abbiamo più l'obiettivo, noi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto quello grosso e quello inaspettato. Quindi adesso semplicemente è un po' più... la tensione cala, è normale, è tutto normale. E anzi, magari questi ragazzi possono avere anche qualcosina in più. Adesso andiamo a Carpi, praticamente si corona, come ha detto lei, questa stagione. E farà ancora... premischierà ancora o...? Ma dobbiamo vedere chi ha recuperato, andiamo a fare una partita migliore che possiamo fare in questo momento. Ma ripeto, a noi interessa chiudere bene, come abbiamo fatto oggi, interessa fare un'altra partita. Niente, continuare a goderci anche il momento, onestamente, perché ce lo meritiamo. Che dice il tifosi, è rimasto ora che lei viene da Taranto, noi, quindi veniva da una piazza calda e tutto. Però man a mano ha saluto conquistare anche la nostra tifoseria, sempre più presente, che si sente... Ma io credo che oltre a... credo sia stata una stagione veramente stupenda, perché oltre a vincere il campionato e mettere sotto... ma mettere sotto in maniera decisa squadre strablasonate e straricche, metterle sotto... abbiamo fatto venire anche tanta gente allo stadio, perché tante partite abbiamo... all'inizio forse era impensabile, invece ho visto la tribuna quasi sempre piena e quindi... credo che sia un altro merito di tutta la pianese.